Noi quest'anno siamo arrivati su lungomare, arriveremo su lungomare con molte più postazioni proprio per dare la possibilità a più cittadini di Napoli e della Campania di poter fare più visite possibili ma soprattutto divulgare il concetto importante della prevenzione perché oltre a fare le visite è importante sapere quando la devi fare la prevenzione quindi consegneremo anche un tagliando della salute come il libertà della macchina dove si ricorderanno che bisognerà fare i controlli a certe età della nostra vita ampliamo il villaggio con oltre 70 postazioni mediche, 42 diagnostiche dove andremo a attuare degli screening su 11 patologie tumorali e il resto su tutte le attività del metabolismo che comunque prevengono altre patologie Queste persone hanno un percorso, a chi gli viene diagnosticata una patologia sarà garantito un percorso nelle strutture sanitarie partonopee che saranno presenti sul lungomare al Tannis Club e Napoli che faranno le visite e quindi gli si garanterà un percorso perché se noi scopriamo attraverso la manifestazione che un paziente come è caduto in questi nove anni e questo è il nono anno di Tannis in Francia, secondo Napoli, di alcune patologie si potranno ricorrere in sistema sanitario nazionale affinché venga assolutamente e tempestivamente approcciata la patologia